Grazie a tutti Non mi ricordo come si chiama Darmian Vicon se lo sbaglio E purtroppo abbiamo perso alla seconda partita Quindi voglio di nuovo provare A trovare qualche altra icona Quindi mi raccomando lasciate subito un like per questo video E veniamo un attimino un po' a quello che riusciamo a trovare Così almeno vi posso Portare qualche altro bel draft Allora abbiamo un modulo che fa Veramente cagare Ma veramente tanto regà Quindi speriamo un attimino che mi esca qualcosa di buono qui Ci da un Aubameyang Un Messi Allora io mi vado a prendere Aubameyang Voglio cambiare un pochettino regà Così giusto per Esterno sinistro mi vado a prendere Lo Tyson che corre un bordello Vediamo esterno destro Se ci capita qualche cosetta di buono Insomma Prendo Ambarabat Ciccocco A meno ci da qualche giocatore sul Comò Qui ci prendiamo un Shaul che fa intesa con Ambarabat E beh qua Maotrich Tutta la vita Vediamo un po' se ci capita qualcosa tipo iniesta o non lo so Va bene prendo lui Va bene Andiamo con il terzo sinistro Potevo andare sinceramente molto meglio Prendo Rose che alla fine è un 82 regà Meglio di niente Un bel difensore Certo guarda che se mi dai un Sergio Ramos Non è che mi dispiace eh No però ci da la squilliquita di nuovo E vabbè è in forma Ce lo prendiamo Giusto perché Terzino destro Prendiamo Roberto Prendiamo un bel portiere Dai Però l'intesa ci sta qua Si tocca a cambiare giusto qualche cosetta L'esterno sinistro Terzino destro Terzino sinistro Eventualmente l'attit Allora potremmo fare Potrei prendere lui Che mi fa intesa con Ava Miang Però vediamo un attimino Qui prendiamo Soriano Che soltanto lo metto qua Mi fa intesa Quindi va bene È un bel piquet Sinceramente Non è che mi faccia schifo È un bel piquet De quelli Cagliardi Sinceramente Dai 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 Damme Messi Ronaldo qualcosa Ah grazie Questo è proprio Messi e Ronaldo Che è così Ma è ancora Allora ci manca la TT A sto punto A Obama Miang Non fa per noi E chi ci mette a posto A Obama Miang Niente di buono Cagliardi Purtroppo no Però ci dà Pepe Che Pepe pure è molto buono Vediamo un po' ancora Te Balenciaga Qua ci dà il portiere Quindi niente Rimane a Obama Miang Che purtroppo non fa intesa Prendiamo Vai Fabian Nischi Sti cavoli Facciamo così Allora Un TT Lo mettiamo qui Ma io direi di lasciare così Vediamo un attimo Quello che esce fuori Allora Premier League 96 Ci porta Tutto al 96 Quindi vivendo Guardiola Almeno è l'unico Dai Va bene Non è malissimo Questa squadra Ragazzi abbiamo l'opportunità Di provare A Obama Miang Bananone Miang Anzi per dire la verità Sinceramente Andiamo a giocare Questa prima partita Mi raccomando Lasciate subitissimo Un bel like Per forza E immediatamente Ragazzi Arriviamo a 18.000 like E domani Altro super puntamento Di FIFA 18 Allora Vediamo un po' Il nostro avversario Che squadra Ci porta E cala Madonna mia Che bomba a mano Eh Bomba via Dai rite Ragazzi Non ce l'ho io L'icona C'ha lui Vai Vai Bananone Vai bananone Vai bananone Mortacci tu Bello Bananone Fammi vedere Che c'ha più grosso Bello Così Mamma mia Peccato Se non era gol Ragazzi E di solito Quando ci stanno gli esterni Così Il golletto Non dico Che assicura Madonna Con queste rovesciate Regà tanto Non poi la faccio Bello così Eh dai Abameyang Dai Bananone Che ha fatto La larva Trace e peppo Dai buono 1 a 0 Signori Un bel tiraggiro Di bananone Young Che la piazza Era imprendibile Stavallone Bello Guarda per bananone Young Che dovrebbe stare Lui al centro Ma Se lo dice lui Arca puttazzola Buonissima Va che buonissima Va che buonissima Va che Buonissima Bello Coppetta di Aubameyang Signori Ci dice anche un po' Di fortuna Qui sinceramente Buono Buono Abbiamo rischiato Tantissimo Però ci dice Fortuna Bellissimo Bello Bellissimo Intervento Corri Corri Soriano Corri Soriano Corri Soriano Oddio 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 Ragazzi Questa cosa Vuol dire che Ce l'ha mezzo Regalato Perché alla fine Non si è mosso Di dalla porta Bello 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 Ragazzi Ripletta di Aubameyang Grande Bananone Mamma mia Ha fatto entrare Il rino del Messi Questo Giusto per Per stare senza Giocatori Poca parole Ma tutti i falli Adesso Dai che cavolo Non sto toccando Tutti i falli Che cacchio Boh Ma ragazzi Parte con il secondo tempo Per adesso Per il momento Stiamo dominando Però ovviamente Mai direi mai Perché qua Un attimo Prendi i facioli E un'altra volta Fallo Madonna No Andando a cogliere I fragole Messi Sì sì C'è andato proprio Ma che buona E dai Che buona E dai Che buona Questa Ragazzi E dai Che buona Lughetto Modric 4 a 1 Allunghiamo di nuovo Le distanze Forza Questo La terza volta E metti in pausa Oh Ecco Baffanculo Grazie Grazie Gentilissimo Raga Pronti per andare a giocare La seconda partita La prima Veramente Bene 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 Che ragazzi Vediamo il secondo avversario Un po' che squadra ci pone E la madonna E la madonna Messi Di Maria Ronaldo Tu sorella E tu zia Qualc'altra cosa No Le mancava qualche icona Giusto Entra questa squadra Dai Partiamo un po' Questa Seconda partita Ragazzi Ovviamente sperando bene Buona E va Bello Subito La famiglia Ragazzi Subito al volo Ma gran bel filtrante più che altro Cioè guardate che filtrantino Raga Che è Spam E poi vabbè la famiglia Mi ha metto la butta dentro Ma meno male che la butta dentro E E E Calla E Calla Santa miseria Bello E E E Vaffanculo dai E Porca miseria 2 a 1 Dai Mi sento più sollevato E la famiglia Bella famiglia Bello Abame Young Raga Qua ce l'abbiamo tirata proprio perfettamente Qui ce l'abbiamo tirata Rente E veramente Nubabà Nubabà Proprio Raga 3 a 1 Da Che gol Che gol Stupido Che abbiamo preso Che gol Stupido Possiamo risparmiarcelo Questo Bello Guardalo Mamma mia Bello Aubamegia Oh Eh E Esaglio Eh Un po' di culo pure a noi ogni tanto E forza No Eh dai Un po' di ciappette De quelle belle tonde pure a noi Bello 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 Madonna Bello Modric No Che cavolata Oddio Oh regole Cioè regà Che gol che mi ero divorato con Modric Eh vale Oh Invece no Ho segnato 5 a 2 regà Mi stavo divorando Anzi Mi ero divorato un gol con Modric Incredibile Incredibile Me l'avevo proprio divorato in un modo assurdo Errori che non si possono Non mi posso permette proprio Dai che buono Eh dai che buono Eh bello Aubamegia anche per Modric Signori Che briscola che ti tira 6 a 2 Ha ha Eh E quitti pure tu Mi sa Mi sa che te la quitti anche tu E dai Non se la quitta ragazzi 6 a 2 Bello Bello 7 a 2 regà Mamma mia che partita questa Mamma mia quanti ti sta facendo poi Aubameyang Un bordello Mamma mia ragazzuoli Ehi Questo è fallo eh Questo è fallo Ci provo ragazzi Con una briscola Con una briscola E' un po' troppo un po' piano Però vabbè Boom Aronald è muerto Dai ragazzi Stanto su 7 a 2 Abbiamo solo che straduminato Sta partita Per il momento Ce la siamo vista un attimo brutta Quando siamo arrivati sul 3 a 2 Però Ragazzi miei Da lì è proprio il devasto Da lì proprio il panico più assoluto Mamma mia che spettacolo signori Aubameyang Incredibile Se non mi hai che dire Questo appuntamento è giunto a termine Ovviamente Spero vi sia piaciuto quindi Mi raccomando un bel processo Commentare con Un video di passare A Facebook E Instagram Tra le ultime In canale iscrizione Al prossimo A potenza del vostro giocherino Ciao signori Ciao!